Allora ragazzi, oggi giornata di unboxing, vogliamo esagerare. Uno, due e bensì tre unboxing. Ragazzi, noi siamo pronti, ma manca qualcuno. Lobix! Arrivo! Siamo pronti. Ragazzi, eccomi qua, siamo pronti per l'unboxing. Bentornati al nostro canale. Bentornati, io sono Cotto. E io sono Lobix, andiamo ad aprire queste tre pacche, vediamo cosa c'è. Tu hai idea? Ma... Una piccola idea ce l'abbiamo. Forse. Una piccola idea ce l'abbiamo. Ma prima, prima sigla. Come vedete, abbiamo pacchi Amazon. Partiamo subito col primo pacco, perché non vediamo l'ora di aprirlo. Fammi sentire il rumorino del... La nostra curiosità, penso che sia un po' come la vostra. Troppo tanto. Andiamo a scoprire subito cosa c'è al suo interno. Scatola blu, ragazzi. Scatola blu. Voilà. Abbiamo un bellissimo eco show. 5. Via. 1. 2. Secondo pacco. 1, 2, 3. Scatola blu. Scatola blu, ragazzi. Eco dot. Terza generazione. Questa è quella con l'orologio, eh? Voilà. Chissà che cosa c'è in questo pacco. No, io lascio sempre l'onora Coco. Poco con le armi. Mi piace, ma io. Secondo me, secondo me, c'è Alexa anche qui dentro. Che cosa ci sarà mai? Che cosa ci sarà mai? Eco Flex. Abbiamo un Eco Flex, ragazzi. Eco Flex. La novità di Amazon. Ok, ragazzi. Come avete capito, oggi parliamo di... OX. Abbiamo tre dispositivi. Eco Show 5. Eco dot di terza generazione con l'orologio. E novità Eco Flex. Oggi non parleremo di tutte e tre. Oggi ci soffermeremo. Quale scegli? Scegli una carta. Questo. Oggi parleremo di Eco Flex. Via. Parliamo di Eco Flex, nuovo dispositivo uscito da poco in Italia. Ve avevamo già annunciato che sarebbe uscito. Abbiamo fatto un video dove dicevamo che non era ancora disponibile in Italia. Adesso è arrivato. È arrivato anche a noi. Adesso ve lo presentiamo. Finalmente direi. Lo andiamo a vedere insieme. Lo apriamo e troviamo subito il nostro dispositivo Eco Flex. Davvero molto piccolo, sta in una mano. Ovviamente non abbiamo il trasformatore perché è già integrato. Perché ricordiamo che questo qua... Si mette. Si mette in una pezza. Si mette in una pezza. Non ci sono tutti quei fili brutti che... Poi abbiamo i vari libretti di istruzione e abbiamo... Non lo so. Carta. Carta. Comunque. Tutta la carta che abbiamo. Via. Via sta. Non ci interessa. I manuali ci interessano? Non ci interessa. Ve lo spieghiamo noi come si fa. Via sta. Ok. Rimaniamo solo con il nostro Eco Flex. Adesso lo andiamo a vedere. Lo andiamo a configurare. Comunque guardandolo più da vicino abbiamo... Nella parte superiore... Aspetta, togliamo ancora le plastiche. È sempre bello scarpare. È sempre bello scarpare. Poi sta arrivando Natale. Esatto. Allora, nella parte superiore è liscio. Non c'è nulla. Nella parte posteriore abbiamo la presa. Una cosa che sto notando e non mi piace tanto... Questa presa è fissa. Cioè non è girabile. Ciò significa che per le prese italiane, la maggior parte delle prese italiane che abbiamo in casa, l'Eco Flex non potrà essere messo così, ma dovrete metterlo così. A meno che non abbiate le nuove prese a muro oppure delle prese a sciuco, ma ricordiamo che gli interruttori, tutte le prese per le case italiane non sono orizzontali ma sono verticali. Comunque, poco male. Nella parte frontale troviamo i microfoni, due piccoli microfoni, troviamo il LED di attivazione e disattivazione, il tasto per attivare o disattivare Alexa e poi troviamo un altro tasto che è di azione per chiedere direttamente Alexa senza stare ad attivarlo con il messaggio vocale. Schiacciamo il pulsante e le si attiverà. E poi questi due fori che vedete qua sono appunto dei fori di uscita della cassa, da dove uscirà la voce di Alexa. Sotto, come avevamo già parlato nel video precedente, trovate un ingresso USB di tipo A, attraverso il quale potete mettere vari dispositivi come un caricabatterie. se acquistate su Amazon anche dei dispositivi per l'Ecoflex potete metterli qui sotto e saranno compatibili. Proviamo anche l'attacco dalle casse perché sappiamo che possiamo attaccare anche il sistema ECOFLEX su una cassa esterna, quindi troviamo il suo jack, la 3,5 e possiamo mettere pure delle cuffie. Perché dal mulo se mettiamo una musica e siamo lì vicino possiamo mettere le nostre cuffie e ascoltare la musica qua. Comunque, adesso lo andiamo a configurare, andiamo a vedere come funziona e vi facciamo vedere tutto. A me già piace. Scopriamo la sua condizionalità prima. Ok, ci siamo uniti di prolunga, abbiamo il nostro ECOFLEX, andiamo a la coppia, lo inseriamo, si è sceso il letto, andiamo ad aprire la nostra applicazione. Vabbè, sta chiacchierando, tutto chiaro. Per la configurazione, scarica l'app Alexa e segui le istruzioni. Hola. Ah, in tutte le video ci sto facendo. Perfissima. La app Alexa esige le sue istruzioni. Connessione del dispositivo in corso. Atenti, per continuare la configurazione, vai all'App Alexa. E noi siamo andati all'App Alexa. All'App Alexa. All'App Alexa. All'App Alexa. Andiamo qua. Facciamo, facciamo, facciamo. Aggiungi dispositivo. Che tipo di dispositivo stai configurando? Amazon ECO. ECODOT, ECOPLUS, ECOSUB, ECOINPO, ECOFLEX. Eccolo. ECOFLEX è collegato all'alimentazione e vede una luce ragione? Sì. Sì. Autorizza accesso alla posizione. Quest'app deve... Blah, blah, blah. Consentiamo. Accedi in postazione. Attiva Bluetooth. Selezioni il tuo Amazon ECO. ECO778. Come diamo, i passaggi sono anche abbastanza semplici. Molto semplici. Spiega proprio tutto. Ok, lui in questo momento sta chiedendo di fare l'associazione con la linea Wi-Fi. E noi lo associamo. Come vedete, è tutto molto semplice, tutto molto guidato. Non c'è nulla di difficile. No. Anche perché dovesse accursare per la prima volta un dispositivo Amazon Alexa. Ma decida in postazione a riguardo. E che siamo noi un pochettino... Arruginiti. Nel frattempo... Connessione in corso. Ci siamo, ci siamo. Il tuo ECO è pronto. ECOFLEX è connesso. Ci siamo. Continua. Ok? Dove lo vogliamo mettere? Lo mettiamo in camera da letto. Continua. E lui adesso sarà pronto. Buonasera. Perfetto. Ok. La configurazione è stata fatta. Vediamo se funziona. Mi bastano pochi minuti. I passaggi sono tutti spiegati in maniera veramente molto facile. Vediamo se funziona. Facciamo una domanda. Alexa, che tempo fa oggi? A Carpiano. La temperatura è di 7 gradi Celsius. Con nebbia. Per stasera è prevista una velocità variabile. Con una minima di 4 gradi. Aumentiamo il volume. Alexa, volume 10. Alexa, quanti anni hai? La mia età è pari al terzo numero primo, dopo 2 e 3 e prima di 7 e 11. Grazie per avermelo chiesto. Se vuoi conoscermi meglio, chiedimi qual è il mio libro preferito. Alexa, stop. Non voglio conoscerti meglio. Come vediamo, l'associazione alla rete Wi-Fi è stata veloce. La connessione è stabile. Se avete una connessione stabile, lei risponde sempre in maniera egregia. Sì. Facciamo, non lo so, facciamo qualcosa. Vediamo un po' per la musica. Vediamo come si comporta con la musica. Alexa, riproduci Spotify. Ecco Spotify. Alexa, stop. Io direi che si sente più che bene. Sì. Diciamo che è un dispositivo che deve essere usato in delle stanze dove c'è silenzio. Cioè significa, siccome la sua cassa non è una cassa, vedete che è piccolissima, quindi la sua cassa all'interno è piccola. Quindi l'audio non sarà come quello di un Echo Dot o un Echo Plus, ma il suo audio è leggermente inferiore. Si sente, si sente bene. Nulla da dire. Assolutamente. Però ovviamente ha un audio un po' meno forte. Quindi va bene per tutte quelle stanze come la camera da letto, come il bagno, un box, se lo vogliamo tenere in box. Sì, anche perché no. Voglio dire, è comunque un prodotto compatto e di piccole dimensioni, quindi ovviamente non ci possiamo aspettare volumi eccessivi come un Echo Dot, appunto come abbiamo detto. Diciamo che non nasce per ascoltare la musica. No, no. Ha tutte le funzionalità, come vi avevamo spiegato, di tutti i vari Echo, però ovviamente in forma ridotta. Esatto. Se pensate che sta all'interno di una mano e più piccola di una mano, potete ben capire. Le sue funzionalità sono multiple. A me piace molto il fatto che lo possiamo integrare a una porta USB. Certo. Cioè, che abbiamo visto anche dei prodotti che sono molto utili, tra l'altro se abbiamo bambini o anche per noi stessi che abbiamo. Cioè, oppure immaginate di averlo in cucina, che è utile per le ricette, con la skill, per esempio, giallo zafferano. C'è una prova anche di quello. Adesso faremo pure una prova. Immaginate magari di averlo in cucina e lo state utilizzando, però avete il telefono scarico. Attraverso la porta USB potete attaccare e avete tutto a portata di mano. Cioè, non dovete collegare il telefono da una parte, quello dall'altra. Con un'unica presa, voi tramite la porta USB potete pure collegare un qualsiasi cosa che sia adatti appunto a questa presa USB. Comunque, vediamo se entri in qualche skill? Sì, assolutamente. Alexa, apri giallo zafferano. Ti potrebbe interessare una delle seguenti ricette. Ciffra e ciaffe, rotolo red velvet, sopa di cicci e zucca, filetto di manzo in crosta, schiedini di mozzarella e accioli fritti, orecchiette broccoli e salsiccia, salmone al forno, risotto cacio e pepe, crema inglese. Alexa, risotto cacio e pepe. Risotto cacio e pepe è una ricetta per quattro persone, di difficoltà bassa, serviranno 10 minuti per la preparazione e 45 minuti per la cottura. Una porzione contiene 489 kilocalorie ed è una ricetta senza glutine. Mi sta passando la fame. Posso darti più informazioni sulla ricetta, fornirti i valori nutrizionali, oppure possiamo iniziare a cucinare. Cosa preferisci fare? Iniziamo a cucinare, che ho fame. Per preparare il risotto cacio e pepe come prima cosa realizzate il brodo. Alexa, stop. Comunque. Puoi interrompere la preparazione della ricetta risotto cacio e pepe? Sì. A presto. Trovi tutte le ricette sul lato di Giallo Zafferano. Diciamo che possiamo pure impostare un Alexa che parla in maniera molto più sintetica. Così se dovete fare una ricetta, iniziate a Natale e finite a capovano. E su quello non ci piove. Come avete visto, è molto chiaro in quello che dice, si sente bene. Sì. È molto dettagliata la descrizione anche. Per chi segue una dieta particolare, dice addirittura di che cosa stiamo cucinando, cosa stiamo preparando, cosa stiamo cucinando. Diciamo che la scelta di un Ecoflex è dettata puramente dalle dimensioni. Perché se io dovesse comprare, se volessi entrare nel mondo di Amazon Alexa, io non opterei per questo. Opterei per un EcoDot, o un EcoPlus, un qualcosa di un po' più grande. Diciamo, comprerei questo solo se già ho in casa altri dispositivi. Perché, come dicevo prima, questo è utile per la cucina, la camera a letto, il bagno. Secondo me non è utile per un soggiorno. La cassa è quella che è, è piccola. E le caratteristiche sono uguali, identiche, alle caratteristiche di tutti gli altri Eco. L'unica cosa è che costa poco. Costa poco. Costa poco. Quindi integrare con gli altri prodotti è eccezionale. Esatto. Mentre se noi vogliamo sentire della musica, ovviamente, magari è preferibile usare un EcoDot piuttosto che altri prodotti, insomma, con casse più importanti. Esatto. Il suo prezzo di lancio è stato di 29,90€. Sì. Adesso lo trovate in offerta col Black Friday a 17€. Io non me lo farei scappare. No, assolutamente. Noi che cosa facciamo? Lasciamo qualcosa? Certo, noi lasciamo i link. Aspetta. Certo, noi ovviamente... Certo, noi ovviamente lasciamo sempre i link con la possibilità dell'acquisto, che comunque a fine offerta stiamo parlando sempre di un prezzo molto basso. 17€, meno di quello... Che cosa vogliamo? Esatto. Con questo possiamo comandare tutti i dispositivi Wi-Fi controllabili appunto dagli Eco di Amazon, quindi le luci, tutto quello che c'è da controllare. Possiamo anche con Ecoflex ovviamente fare le routine, fare le scene... Diciamo, possiamo fare tutto quello che si fa con tutti i vari dispositivi. Le funzionalità sono complete. Esatto. Lui è solo il fratello minore. Solo il fratello minore di tutta la gamba di Eco. Io non avrei altro da dire su questo produttivo. No. Vi abbiamo detto che questo qua era il tasto di richiamo, anziché chiamarlo vocalmente premendo questo tasto si attiva. Che ore sono? Sono le 7.28 di sera. Invece schiacciando questo tasto, il tasto in basso, andremo a disattivare il suo microfono. Quindi noi, se dovessimo interagire con lei, andiamo a disattivare il tasto... Se andiamo a schiacciare invece il tasto in basso, andiamo a disattivare il microfono di Amazon Alexa. Cioè significa che noi interaggiamo, ma lei non ci ascolta. Proviamo. Diventa rosso il LED, noi possiamo chiamarla tutte le volte che vogliamo, non ci sentirà. Alexa, Alexa, non ci sento. Quindi quando vogliamo restare solo con noi stessi, schiacciamo e non ci rispondiamo. Se invece lo ripremiamo un'altra volta, ritornerà attimo. Ok, abbiamo visto il nostro Ecoflex, ma andiamo ad aprire l'altro. Facciamo un confronto. Eccolo. Abbiamo detto, con l'orologio, nuova generazione, abbiamo un pacchetto schemi di trappare danni. Vediamo. Voilà. Quindi, scatoletta più o meno simile, ovviamente più grande. Manuali che non ci servono. Ragazzi, il nostro Ecoflex. Bellissimo. Noi l'abbiamo scelto bianco, c'è anche di colorazione nera. A Cepolo è un altro tipo di colorazione, tipo lilla. Non sbaglio. Ah, però. Interessante. Diciamo un po' per tutti i gusti. Bellicola. Quindi lo troviamo anche questo molto piccolo, perché sta in un palmo di una mano. Abbiamo i nostri quattro tasti, con quattro microfoni. Abbiamo il meno del volume, il più del volume, per disattivare il microfono e per azionare Alexa, senza dirlo a voce. E poi abbiamo il nostro alimentatore, che andiamo a collegare. Ovviamente anche qua abbiamo l'uscita AUX da 3,5 mm, il jet classico. Per poter collegare cuffie, oppure per poterlo collegare a un impianto stereo. Esattamente. E poi il nostro attacco dell'alimentazione. Ok. Non vi facciamo vedere adesso come si configura. Vi abbiamo fatto vedere quello dell'Ecoflex. La configurazione è uguale. Procedura identica, semplice, veloce, intuitiva. Quindi andiamo a collegare la nostra... Simuliamo della nostra, ovviamente, presa. Stazione. Colori molto accesi, del led tutto circolare. Bellissimo. Modalità di configurazione attiva. Segui le istruzioni nell'App Alexa. Ok. Quindi come vedete è molto semplice, uno è uguale all'altro. Ok, come vedete adesso chiede la configurazione. E vedrete un disco arancione, un led arancione che gira a circolare. Quindi la colleghiamo tramite App. Econo. Esatto. Si sta copiando. Non ci fa nulla. Ok. Da questo momento lei è attiva. Quindi possiamo fare una piccola prova. Alexa, che ore sono? As a noun, no is usually defined as a negative or, alternatively, a radioactive transuranic element synthesized by bombarding curion with carbon ions. Seven isotopes are known. As an adjective, no can mean, quantifier, used with either mass nouns or plural count nouns for indicating it. Quindi facciamo subito una prova. Alexa, che ore sono? Sono le 7.47 di sera. Ecco. Come potete vedere l'audio si sente in maniera molto più corposa. Esatto. E siamo solo a metà. Alexa, volume 10. Alexa, che ore sono? Sono le 7.47 di sera. Se volete ascoltare della musica, vi garantiamo che potete ascoltare tutta la musica che volete con una buona qualità audio. Alexa, riproduci Spotify. Ecco Spotify. E' vero. Ok, detto ciò, abbiamo anche un equalizzatore per poter ampliare i bassi, piuttosto che i medi o gli alti. E poi abbiamo il nostro display, come potete vedere, con l'orologio, può regolare anche la sua luminosità. Diciamo che è molto più utile questo che questo. Le differenze sostanziali è che questo ha il suo cavo di alimentazione, quindi lo potete appoggiare dove volete, mentre con l'Ecoflex siete costretti, diciamo così, a metterlo appunto su una presa, a muro. Però ha anche i suoi vantagli, non ci sono fili e tutto. Questo qua lo potete appoggiare dove volete, potete portarlo con voi, perché ha il suo filo di alimentazione che poi dovete andare a collegare ad una presa elettrica. Tutto dipende da quello che volete farci, dalla qualità audio che volete. In questo momento, se dovesse acquistarlo, io acquisterei questo, perché il rapporto qualità-prezzo in questo momento l'EcoDot di terza generazione costa sui 34€ col Black Friday. I prezzi più o meno sono lì. Sono due prodotti che funzionano in uguale maniera. L'unica cosa è che hanno ovviamente delle differenze. Una su tutte è la differenza audio. Con l'EcoDot di terza generazione andremo ad avere un audio con una qualità molto, ma molto superiore rispetto all'Ecoflex. Se noi vogliamo integrare un prodotto già esistente di Amazon, allora va bene l'Ecoflex. Ma se noi dobbiamo iniziare ad acquistare per la prima volta un prodotto, noi consigliamo piuttosto l'EcoDot, perché abbiamo visto che comunque i volumi sono più alti, se volevamo soprattutto sentire la musica è qui indicato questo. Cosa che siamo un pochettino più tirati su quello. L'Ecoflex è un po' limitato, ma lo sappiamo. Andando ad acquistare un Ecoflex sappiamo che abbiamo delle funzionalità identiche a tutti gli altri Ecoflex, ma ha una qualità un po' leggermente inferiore. Tutto qua. Quindi, per entrare nel mondo di Amazon, Alexa... Dai zitta. Protesta. Per entrare nel mondo di Amazon... Alexa... Ti sentiviamola. Una caratteristica, una nuova funzione che è attiva da poco e che non conoscevamo l'esistenza, ma l'abbiamo appresa da poco, è la risposta in maniera silenziosa. Cioè, se magari torniamo a casa la sera, tardi, stanno tutti dormendo, ci sono i bambini che dormono, la moglie che dormono, il marito che dormono e non vogliamo svegliare nessuno. Noi possiamo interagire con Alexa, possiamo interagire con Alexa in maniera silenziosa. Noi chiediamo qualcosa in maniera silenziosa e lei ci risponderà in maniera silenziosa. Facciamo una prova. Vai qua. Alexa, che ore sono? Sono i sedici. Bella funzione però. Bella funzione, utile e tra l'altro è veramente simpaticissima. Esatto. Cioè, se noi le chiediamo ad alta voce, Alexa, che ore sono? Sono le 7.55 di sera. Ma se noi le chiediamo invece in maniera silenziosa, lei ci risponderà in maniera silenziosa. Alexa, che ore sono? Sono le 7.55 di sera. Diciamo che piano piano il mondo di Alexa si sta evolvendo, sta diventando sempre più intelligente. Sono dei dispositivi da avere? Assolutamente sì. Noi già siamo entrati nel mondo di Amazon. Fanno parte ormai della nostra vita. Ormai fanno parte di noi. Comunque, questi due dispositivi sono quelli che vi abbiamo voluto presentare oggi. La presentazione era sull'Ecoflex, perché questo qua, cioè l'Ecodot è già in commercio da un bel po' di tempo. L'Ecodot integrato con l'orario è un qualcosa in più che è uscito da poco. Però l'Ecodot terza generazione era già presente nella nostra vita. Era già presente. Quindi l'Ecoflex invece è un qualcosa di nuovo, molto utile. Noi vi consigliamo di acquistarlo, perché è un dispositivo da avere. Trovate il link in descrizione sia per l'Ecoflex che per l'Ecodot. Se volete dare un'occhiata qui sotto con il link in descrizione potete pure acquistarlo. Coco che le ha tutte e due, si trova bene con tutte e due. Parla a tutte e due. Sì, ormai sono amiche mie. Esatto, interagisce con tutte e due. Quindi per noi vanno bene. Sì, assolutamente. E tra l'altro abbiamo notato anche che in diverse posizioni della casa... Diciamo che i microfoni che sono presenti, in questo Ecodot ne abbiamo quattro, nell'Ecoflex ne abbiamo solo due, sono dei microfoni... Di alta qualità. Di alta qualità. Riescono a sentire la voce di chi interagisce con loro anche ad una certa distanza. Certo. Rispondono sempre bene ai comandi. Diciamo che sono dei prodotti validi, molto validi. Io sono rimasto molto contento dell'Ecoflex perché sembra una mattonella da 10. Tra altre cose, poi, tra di loro riescono a capire chi dei due prende il comando. Quindi se noi parliamo di Alexa, ma nelle vicinanze c'è anche l'Ecoflex, il più vicino riuscirà a capire chi dovrà rispondere. Esatto. Ci risponderà sempre l'Ecodot o l'Ecoflex, cioè il dispositivo più vicino alla nostra voce. Ok, i vari eco presenti nelle abitazioni, se ne abbiamo più di uno, possiamo associarli tra di loro. Ciò significa che magari se ascoltiamo la musica, possiediamo questo in camera a letto e questo in cucina, possiamo, tramite applicazione, impostare che al comando di uno suonerà pure l'altro. Cosa molto utile, è come se avessimo una specie di filo di fusione, diciamo passato, una specie di filo di fusione e potremmo sentire la musica in ogni istanza. non ci troviamo. Esatto, su diversi dispositivi, però la stessa musica. Comunque, va bene, ragazzi, il video finisce qua, ma con Alexa non finisce qua. Ci saranno... Stop, basta, fermati, non parlare più, stai zitta. Questo potrebbe rispondere alla tua domanda, perché si trova in Italia? Alexa. È partita. Dicevamo, con Alexa non finisce qua, ci saranno ulteriori video, ci saranno ulteriori unboxing e ci saranno ulteriori dispositivi che andremo a presentarvi. Il mondo d'Alexa è un mondo vasto. Per il video di oggi... È tutto? Per il video di oggi... Mi stai facendo confondere, Alexa. Mi puoi dire questo, guarda. Mi stai facendo confondere. Mi stai innamorando di te, Alexa. Mi stai innamorando di te. Con Alexa non finisce qua, perché ci saranno ancora tanti video da fare e tante cose da vedere. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, così ci seguirete nei successivi video e se volete lasciare un commento o farci qualche domanda, fatelo e noi risponderemo. E noi risponderemo. Per oggi è tutto. Da Koto e da Lobix, alla prossima! Apa che hai... Questo è... Esecla! FABRIENCE, asserio! Di oggi! È snow, là suori di camanile in Prowix. Non è aperto! Ma non mangai? Ci Ciao, ci sono. Certo le tornate. Anche la bambada. Anche la staglia che è chitta. Te lo dallo. Uno, ma c'è questa cosa. Non va. Che grossa, non c'è un straccio. Eh, è la mia. Buonissimo. No. La rega mia. No, cara, è la bambada. Ammazzola, compa. E' una bambada, non mi potrebbero pensare, no? Aspetta, l'altro si chiuderebbe. Appogliate la bambada, che ti ammazzola. Appogliate la bambada. Un nick. Basta che non si appoglia anche la bambada. Il video finisce qua. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se voletevi iscrivervi. Se volete fare un commento o commentare. Ah, ok. Ma non va parato. Alexa, che ne sono? Sono le 8 e 1 di Sier. Veramente il mio orologio fa le 8 e 2. Comunque.